Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù è entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao e insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento e infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrive. Ed ecco nella loro sinagoga che era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a veridare dicendo che vuoi da noi Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci, io so che tu sei il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente, taci, esci da lui. E lo spirito impuro, straziandole, gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore tanto che si chiedevano a vicenda, che è mai questo un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. C'è una parola autorità che ha a che fare in modo molto stretto sia con il Salmo che abbiamo fatto, che abbiamo letto e a cui abbiamo corrisposto, che con questa lettura del capitolo 2, da lettera agli ebrei, dove dice, parlando di lui in modo profetico, cioè l'autore della lettera agli ebrei, cita il Salmo che cos'è l'uomo perché di lui ti ricordi, di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato. E hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi. Questo è il processo di innalzamento dell'uomo, da essere umano ma abitato da Dio, che corrisponde allo Spirito di Dio e una volta vittorioso sul peccato, e quindi obbediente a Dio, viene elevato a una condizione completamente differente. C'è una intronizzazione nelle parabole di Gesù. Noi troviamo, almeno un paio di volte, lui che parlando di sé dice nella parabola, un uomo si mise in viaggio perché doveva ricevere un titolo, un titolo regale e poi torna, intanto affida ai suoi servi e poi dopo chi gli rende conto di quello che hanno fatto mentre lui è assente e tarda a venire. Quando torna ha il titolo regale. Allora tutte le profezie parlano di lui e di noi quando siamo messi a far parte, quando chiamo far parte della sua stessa realtà umana, quella che è l'incorporazione mediante il battesimo. Quindi il destino dell'uomo parte da qui, ma non è che semplicemente muore in un mondo di là, parallelo. No, è un destino di regalità. Per cui noi che siamo battezzati in una sola cosa con il Cristo, siamo chiamati, come dice la scrittura, a regnare su tutte le creature ed il creato. Vuol dire che a noi viene posto sotto i nostri piedi ogni cosa, come a lui, perché noi siamo uniti a lui. È importante questa cosa qui. Sono due gli elementi. Uno è lui, Gesù, che riesce a fare questo in quanto obbedisce al Padre e viene assunto in cielo e si è dalla destra del Padre e gli riceve tutta la sua potenza, la sua potestà. Che vuol dire lui, il figlio, in quanto si è fatto uomo, ed è stato vitorioso, ed è stato obbediente a lui, merita di diventare re di che cosa? Del creato che ha fatto. Il creato non è semplicemente una regione della Terra e il mondo intero, l'universo, le stelle, è molto più ampio di quello che possiamo immaginare. E per quale motivo? È la creatura più alta? No, di poco inferiore agli angeli, però viene messo al di sopra degli angeli. Questa autorità è la stessa che gli ascoltatori e quelli che assistono alle opere di Gesù rilevano in Gesù. Chi è mai questo? Parla con un'autorità e insegna un'autorità che gli scrivi non hanno. È in più una dottrina nuova. E poi scaccia il demonio, nessuno aveva mai fatto un accordo del genere, nel senso che egli ha un modo di scassare il demonio che non è che chiedi a qualcuno, al Padre ti prego, manda via, che si chiama preghiera di intercessione. Chiedi a qualcun altro se mi fa il favore, la grazia di ottenere questo o quella cosa. In questo caso è scassare il demonio. Lui direttamente con lo stesso potere di Dio, con la stessa autorità di Dio il Padre, cassa il demonio. Perché? Perché è una creatura e a lui tutto è già sottomesso. È già il segno di quello che riceverà poi dopo, in compienezza, dopo l'ascensione al cielo. E anche riguardo la scrittura, l'autorità sulla scrittura, non è che lui si inventa una dottrina nuova. Perché se noi andiamo a leggere l'Antico Testamento, troviamo una continuità e una pienezza con quello che Gesù ha fatto. Vi do un comandamento nuovo. Poi se andiamo a vedere i profeti, l'avevano già detto. Dove sta la novità? La novità sta nel fatto che gli scrivi, con i secoli, nel passare delle generazioni, avevano aggiunto interpretazioni, modificato, aggiunto tanti percenti, 613 percenti dei rabbini, per applicare le leggi che non capivano più. Cioè più ci si allontana dalla fonte, il legislatore, colui che scrive una legge, una norma o dà degli insegnamenti, più ci si allontana e meno si capisce. Più la fonte è vicina e più si capisce. Allora un conto è ascoltare il Vangelo di uno che cerca di capirlo, come noi, duemila anni dopo. Un altro conto è ascoltarlo dai padri della Chiesa, che sono lì attorno nei primi secoli, ancora tutto molto vivo, un conto è ascoltarlo direttamente dagli apostoli e dagli evangelisti, che hanno sentito e ascoltato Gesù. Il colore, il tono, la profondità, l'esattezza è completamente diverso. Tant'è che a noi tante cose sono oscure e dobbiamo studiarle. Allora più ci si allontana dalla fonte e meno il testo diventa chiaro. Meno diventa chiaro, più si tenta di interpretarli in modi che non possono essere tutto giusti, o si aggiungono norme e precetti che piano piano vanno a incrostare la purezza della legge. Pensate, adesso non posso riportare tutti quanti gli esempi, ma quando Gesù è in lite, con i farisei, gli fanno i tranelli, i trabocchetti con le leggi, se è vero questo e Mosè ha detto questo, che cosa dobbiamo dunque fare? E lui li risolve sempre perché conosce bene lo spirito della legge, mentre invece loro interpretavano in un modo ristretto, contraddittorio con tutto il resto, ma che allora sembrava, faceva conto che fosse quello vero, perché è facile ritagliare due parole e poi dire c'è scritto questo. Bisogna sempre vedere come si dice il testo e il contesto. Gesù dunque riporta la dottrina antica purezza, vi è stato detto, ma io vi dico, in principio non era così, è per la durezza del vostro cuore, ma in principio Dio ha detto. Questo è il suo modo di insegnare. Per cui la dottrina sembra nuova. Sembra nuova perché in realtà non è quella che hanno sentito tutti i giorni da questi commentatori che a forza di commentare e di passarsi i commenti si dimenticano il cuore, la radice pulsante della parola di Dio. Ma Gesù è la parola di Dio fatta carne, chi meglio di lui poteva spiegarlo. E parla con l'autorità perché non ha bisogno di dire Tizio ha detto, Caio ha detto, quello ha commentato, Andasse dice e lì è scritto. Lui dice ma io vi dico, io. E chi sono io? Lui dice io sono il figlio di Dio, sono la sua parola che ha creato tutto e che ha anche dato i comandamenti e che ha anche dato tutte le scritture. Ecco questo senso di autorità nuova che loro sentivano e che veniva confermato anche dall'assoggettamento di creature, quelli angeliche, gli spiriti impuri, gli angeli decaduti, che a nessun uomo si sarebbero sotto messi. Da dove gli viene questa autorità? Sono i segni della sua divinità. Si realizza, no? Quello che dice nella lettera in ebrei, ogni cosa è messo sotto i suoi piedi. Ma aggiunge una cosa, lo dico come apertura di un problema che non è un problema, lo conosciamo bene. Dice, al momento presente però, non vediamo ancora che cosa è, che ogni cosa sia a lui sotto messa. Ma allora, se lui ha potere su tutte le cose, perché, vuol dire questo la lettera agli ebrei, perché nel mondo vediamo ancora il male? Se lui è padrone di tutto, come mai il male e i maligni scorazzano e fanno quello che gli pare? Dov'è Dio? Domanda che no, si sente sempre Dio nel peter, no? Allora, il potere sarà su tutte le cose, ma è ancora un tempo che è stato concesso al mondo degli uomini, e dunque anche degli spiriti impuri, di agire secondo la loro volontà. Ma è un tempo chiuso, che lui ha già determinato da qui e fino a qui. Poi viene il momento del giudizio, cioè rendi conto. Quindi adesso vi sembra di essere liberi. Il padrone che tarda perché è andato a riservere un titolo regale. Quando tornerà, chiederà, tu ti rendi conto. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa non hai fatto? E vedi questo passo. Allora, questa frase viene anche con l'espressione che è molto nota, una fortunata espressione teologica di ormai 60 anni fa, già e non ancora, no? Ha già vinto, no? Tutto il Dio è già stato sottomesso, ma non vediamo ancora che ogni cosa sia lui sottomessa. Già e non ancora. Quel non ancora è il nostro tempo, è il tempo della possibilità data a lui. Non dell'impotenza di Dio, non della mancanza di autorità di Dio, non della mancanza di potenza di Gesù Cristo. È il tempo dell'attesa, la sua, data e concessa a noi per uscire dal peccato ed andare a lui. In fondo è il tempo della misericordia, quello che ci ha dato per scegliere e per il bene. Saludato Gesù Cristo. Saludato Gesù Cristo.